Trionfo bianconero alla Brasili L'atelico Torrenova di Mister Russo piega 3-2 nel città di Monte San Giovanni Campano e si prende la vetta solitaria del gruppo D La prima occasione del match arriva solo al diciassettesimo con Rossi che si supera sul tentativo da fuori di Celenza Cinque minuti più tardi, ecco il vantaggio degli ospiti Macciocca lancia in profondità Carfora il quale mette al centro per la corrente Ferraccioli che in due tempi riesce a battere Rossi e a portare avanti i suoi La risposta del Torrenova arriva appena 60 secondi dopo con Barile che calcia alle stelle un bel pallone proveniente dalla destra Al ventottesimo però è Rossi a doversi superare sul colpo di testa di Fortini evitando così il raddoppio del giallo-blu Undici minuti più tardi la situazione torna in equilibrio Carfora commette un'ingenuità e ferma un pallone con il braccio in piena area Barile al dischetto è graciale e fa 1-1 Al 43esimo episodio controverso a sfavore degli ospiti Carfora aggancia un pallone pagante e mette dentro la sfera del 2-1 ma l'arbitro annulla per fuorigioco Subito dopo il mister degli ospiti Bottoni viene allontanato per proteste L'ultima azione del primo tempo è un'occasione clamorosa per il Torrenova Amoroso lo schiaccia da due passi sul calcio d'angolo ma il riflesso di Lisi è superlativo e salva il risultato Nella seconda frazione, dopo una breve sospensione a causa della grandine la prima chance è ancora per la squadra di casa ma il calcio di punizione di i ragazzi di Bottoni a causa di una spinta in area subita da un attaccante giallo-blu Macciocca dal dischetto è perfetto e regala un briciolo di speranza ai propri compagni Non accade più nulla, al triplice fischio esulta la Terrico Torrenova Il big match è bianco-nero